Caffoscari Alumni, l'associazione degli ex studenti dell'Università Caffoscari di Venezia, attivo ormai da oltre un anno e mezzo a fare i propri obiettivi quello di assistere tutti i laureati di Caffoscari anche nel loro percorso successivo al momento della laurea e quando hanno concluso gli studi. Nella convinzione che ormai la formazione continua e lo sviluppo professionale siano servizi ed elementi importantissimi per aiutare a crescere nel mondo del lavoro. Oggi, grazie alla collaborazione con S&A Change, un'azienda esperta di consulenza manageriale e di coaching, abbiamo organizzato per un nucleo di nostri soci premium una giornata dedicata al coaching per insegnare loro delle tecniche e dei metodi di sviluppo personale che possono aiutarli nella crescita e nel momento di carriera, ma soprattutto per poter applicare queste nuove tecniche anche all'interno del proprio contesto lavorativo. È una giornata che fa parte di un contesto più ampio, che si chiama Alumni Career, una piattaforma che come Caffoscari Alumni, come associazione, stiamo lanciando. Si tratterà di una piattaforma composita, servizi sia offline come incontri, giornate di formazione, sia online, una vera e propria bacheca di annunci, contatti, possibilità soprattutto di contatti con gli oltre 30.000 laureati che abbiamo in banca dati come Caffoscari Alumni. Una serie di servizi quindi che possano assistere ed aiutare i laureati nel loro percorso dopo la laurea nella convinzione che non sia mai finito il tempo per studiare e per crescere assieme. Grazie a tutti.